Ciao a tutti e benvenuti su Come Realizzare Tutos DIY Ispirazione Oggi sono qui con voi con un nuovo video decorativo Difatti oggi andiamo a decorare questo bel lettino Playmobil fatto con la creta Con i nostri glitter Quindi qui abbiamo la colla glitter rosa Che a me piace tantissimo, difatti ho usato mezzo flacone Poi invece abbiamo anche quella argentata Qui sotto vedete c'è il materasso fatto di cranci Di cosine cranci E invece qui abbiamo tutto il resto del letto fatto sempre con la creta Quindi io vado a decorarlo passando prima dell'argento sui bordi del lettino In questo modo Tutto sul bordino, piano piano, così non cade Benissimo e adesso invece vado a fare la stessa cosa ai bordi Bene, allora abbiamo fatto tutti i bordi Adesso andiamo ad applicare un po' di rosa Ho deciso di metterlo così con questi puntini Perché sembrano quasi delle gemme E mi piace tantissimo l'effetto che ha Lo facciamo anche sotto Ma ho deciso di creare delle ondine E qui infine Voglio creare un bel cuoricino Faccio la stessa cosa anche dall'altro lato Aggiungo un po' d'argento Intorno Sempre stile gemme come prima Ebbene ecco qui Questo è il lettino che abbiamo creato È davvero molto molto carino E mi piace tantissimo Perfetto per la nostra pupazzina Playmobil E penso che le piacerà molto Lo abbiamo fatto asciugare Ed eccolo qui Perfetto possiamo giocarci Metterlo all'interno dei nostri castelli Playmobil Insomma è pronto per l'uso Mi piace tantissimo perché sono rimaste in riverbero Le nostre decorazioni E appunto alla nostra pupazzina Piacerà tantissimo Poi mi piace tantissimo Il modo in cui si adatta perfettamente al nostro bellettino E mi piace anche il fatto che Se ci passo il pollice sopra Non viene via Ciò vuol dire che si è asciugata completamente E che quindi possiamo giocarci Insomma alla fine diventa perfettamente adatta al gioco Vado a rimettere la copertina Vado a rimettere il mio cuscinetto Cambio le verso perché lì c'era il segno E ci metto anche la mia pupazzina Playmobil Che sembra davvero davvero contenta Di quello che abbiamo realizzato oggi Molto bene Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto Se così fosse Vi invito a lasciare un like A lasciare un commentino Dicendomi se anche voi ci avete provato E iscrivervi al nostro canale Dove troverete tantissimi video simili e divertenti Nuovi video ogni giorno ragazzi Noi ci vediamo molto molto presto Ciao